Oggi si celebra la giornata della memoria, un momento importante per tutti noi, un momento di riflessione per tutti noi e soprattutto per le giovani generazioni. Parlare oggi di memoria è estremamente importante, la memoria è la benzina per costruire il futuro, senza memoria non c'è democrazia, senza memoria non c'è stratificazione della conoscenza dei tanti che ci hanno preceduto. Ricordare le vittime dello Shoah è molto importante, in un momento in cui come sempre in tutto il mondo si riavvertano gli echi dell'intolleranza, dell'odio dei regimi totalitari. Oggi più che mai abbiamo bisogno di rafforzare i presidi democratici del nostro Paese e lo dobbiamo fare partendo dalla conoscenza, partendo dal confronto, partendo dalla condivisione con i più giovani che non hanno vissuto direttamente gli odi e la ferocia di quella stagione, ma che ne debbono essere consapevoli e debbono essere custodi dei valori della tolleranza, dell'inclusione e della democrazia. Ricordiamo sempre, perché ricordando, costruiamo la nostra libertà e costruiamo il nostro futuro. Anche per questo motivo vi invito ad ascoltare questa riflessione che certamente contribuirà a ricostruire, a ripensare, a rivedere quello che è stato il nostro passato, ma soprattutto quello che sarà il nostro futuro. Buongiorno, maestro Heim Bakarier. Grazie di averci concesso questo spazio di riflessione sul tema del ricordo in occasione della giornata della memoria che, come sappiamo, cade il 27 gennaio. Allora, maestro Bakarier, lei è notissimo al pubblico italiano come interprete biblico. Io però vorrei qui con lei oggi riflettere sul tema della memoria e del ricordo su due piani diversi. Da un lato facendo appello alle sue competenze bibliche e anche psicanalitiche, perché ricordiamo che lei è uno psicanalista e questa dimensione del suo lavoro credo che risulterà preziosa nel corso della nostra conversazione, però vorrei affrontare anche il nostro tema su un piano più personale e partirei proprio da questo secondo livello di discussione, in quanto maestro Bakarier la sua famiglia è stata coinvolta direttamente nella Shoah e ha intersecato questa che è la più grande tragedia del secolo scorso. Quindi inizialmente io vorrei chiederle la sua esperienza personale della Shoah, in che modo la Shoah è caduta addosso, si potrebbe dire così, alla sua famiglia. Qual è la storia della sua famiglia in relazione alla Shoah? Dunque, innanzitutto ti ringrazio Davide, ti ringrazio non solo per oggi, ma per tutto quello che facciamo insieme e ci tengo a sottolinearlo. La Shoah hai parlato sia di memoria che di ricordo e quindi io credo che bisogna sottolineare la differenza. Il ricordo è individuale, la memoria è collettiva e io credo che col giorno della memoria c'è stata una confusione tremenda. Si è dato spazio moltissimo al ricordo, che è prezioso certamente, ma che non ha niente a che vedere con la memoria. E questo la tradizione ebraica, il pensiero di Israele, il pensiero ebraico, lo hanno praticamente scoperto molto rapidamente perché, per esempio, quando si approccia ai testi della Bibbia ebraica, non si parla mai di storia, si parla di memoria ed è una memoria sempre in costruzione, in evoluzione tramite il commento costante di questa Bibbia. La Bibbia è ridicolmente piccola rispetto al commento della Bibbia. Sarebbe quasi possibile non andare nemmeno a guardarla più la Bibbia e occuparsi soltanto del commento. Il commento è filosoficamente parlando, strutturante, ed è questa la memoria di Israele. La memoria di Israele si approfondisce costantemente. Tu hai cominciato chiedendomi un po' della dimensione personale. Io, di ricordo della Shoah, non ho niente. I miei genitori praticamente non hanno quasi mai parlato con me di quello che è successo loro. Tutti e due scampati, tutti e due reduci di Auschwitz. Mio papà di un soggiorno, dico soggiorno ironicamente, molto più lungo della mamma. Non si conoscevano prima della guerra. E se devo parlare di ricordo e memoria insieme, c'è un episodio. Un episodio che in realtà mi vede all'età di 27-28 anni, non ricordo esattamente, quando per la prima volta mia zia, che era l'unica sorella di mia mamma, mia mamma erano sette o otto fratelli e sorelle, unica sopravvissuta insieme a mia mamma, sul suo letto di morte, mi disse, tu devi avere un rispetto senza faglie per tua mamma, perché mi ha salvato due volte la vita ad Auschwitz. Due volte. E questo per me è stato impressionante, perché mia mamma non me ne ha mai parlato e quando gliel'ho detto è scivolata, non ha voluto dirmi niente. Mia zia mi aveva raccontato esattamente i due episodi e quindi quando si parla di ricordo, ho questo ricordo e un altro, avevo nove anni e mio fratello ne aveva quattro. Era seduto sulle ginocchia di papà e papà aveva le maniche della camicia slacciate e mio fratello ha sollevato un po' la manica, non ricordo più della mano destra, del braccio destro sinistro e ha visto il numero, al che ha preso una gomma e ha tentato di cancellarlo. E mio papà sorrideva e gli diceva, dai, dai, forse riuscirai a cancellarlo. Ed era molto serio. Io devo dire che è soltanto oggi che capisco il sorriso di papà e quest'idea di cancellare quello che è il ricordo di Auschwitz per entrare nella memoria. La memoria è tutt'altro. Bene, maestro Bacharier, molto chiara questa sua distinzione fra ricordo e memoria e è una distinzione su cui lavoreremo anche noi in questa nostra piccola discussione, però vorrei stare ancora sulla dimensione del ricordo personale, perché credo sia prezioso far capire anche a chi ci ascolta, che viviamo un momento particolare noi riguardo alla storia della Shoah. Si sta esaurendo per motivi anagrafici la presenza dei reduci diretti così come sono stati i suoi genitori e forse qualcuno può pensare che con quella generazione si esaurisca il trauma prodotto dalla Shoah, la mia idea è invece che ci siano dei reduci di seconda generazione e che lei appartenga a questa forma di reduce perché lei è nato nel 1947 ed è quello che si suol definire un figlio della Shoah, nel senso che è un figlio di reduci dei campi di sterminio nazisti. Ciò che le volevo chiedere è uno spunto che mi viene dall'aver seguito le sue lezioni per diversi anni, ancora le seguo, lezioni in cui lei spesso ha parlato e qui chiamiamo in causa le sue competenze psicanalitiche di una ferita narcisistica che è ben presente ed evidente nei figli della Shoah. Le vorrei chiedere stando proprio ancora sul livello personale che cosa intende con questa espressione e dove lei rivede nella sua vita anche di oggi a distanza quindi di diversi anni il perpetuarsi di questo trauma che hanno vissuto i suoi genitori. Effettivamente ricordo che quando cominciai a parlare a usare questa espressione di ferita narcisistica non fu molto ben visto. Invece da parte mia era molto sincero, molto autentico. Questa ferita narcisistica in realtà ha cominciato a sanguinare realmente quando i reduci hanno cominciato a parlare, quando è diventata la sofferenza come istituzionale fondante dell'identità ebraica. Avevi sofferto e quindi avevi diritto di esistere come ebreo ed era terribile. dunque ha cominciato molto tardi questo. Tant'è vero che quando ero ragazzino che andavo in uno dei quattro cinque piccoli templi parigini di reduci e che quando si entrava si vedeva questi visi grigi, questi occhi neri, queste facce magre e sofferenti, io ero convinto che questo è l'ebraismo. Cioè che così erano tutti i templi del mondo, tutti i templi di Israele del mondo. Perché non sapevo, non sapevo niente della Shoah, di quello che è poi stato chiamato la Shoah. Inizialmente in yiddish tedesco veniva chiamato Derbruch, Derbruch, il disastro. Così si parlavano tra di loro. E quindi la ferita narcisistica è arrivata dalla memoria celebrativa che era un misto tra ricordo e esaltazione di questo ricordo. Sembrava che per essere degno di considerazione, e parlo della considerazione ad minima come essere umano ebreo dovevi arrivare dalla Shoah. Ricordo a un certo punto quando ci fu in Francia l'arrivo degli ebrei del Maghreb, gli ebrei, pochi ebrei reduci della Shoah, guardavano quelle del Maghreb non esattamente come ebrei, devo dire, ma non perché avevano delle pratiche diverse, ma perché non avevano sentito parlare del Bruch. Era questo. E quindi è su questo che io ho cominciato a lavorare, chiedendomi ma dove stiamo sbagliando? Perché il risultato, poi l'ho visto su mio figlio piccolo, che ha cominciato a dire, ah no, basta, essere ebreo non è questo, papà, mi diceva mio figlio con tanta sofferenza. e devo dire che io lo capivo, ma ero stato già vittima della ferita narcisistica. Ed è stato per me un sforzo immane riprendere da zero e dire no, l'identità ebraica non è questo, non è né la memoria celebrativa né purtroppo i ricordi. Perché, come dice giustamente Liliana Segrè, se i libri di storia ci daranno cinque righe, i libri di fra venti, trent'anni, dovremmo essere soddisfatti. E ha perfettamente ragione, secondo me. Perché parlare del broc, e io decisamente preferisco broc a Shoah, parlare del broc, bisogna, secondo me, entrare nel pensiero di Israele. Se vogliamo capirci qualcosa, e per entrare seriamente in questo pensiero, abbiamo la pratica quotidiana della memoria di Israele, la memoria che inizia con il primo grande boc, l'esilio in Mitzrayim, in Egitto, il primo grande esilio. Ecco, maestro, ha anticipato un tema che volevo affrontare con lei. A questo punto direi passiamo al secondo livello della nostra conversazione che lei ha già introdotto molto bene con queste sue ultime parole. Il tema appunto della memoria, intesa come memoria collettiva. L'ebraismo, già lo stava dicendo, non ha certo vissuto con la Shoah il suo primo grande trauma e neanche il suo primo grande tentativo di sterminio. Eppure il popolo ebraico, anche nell'immaginario collettivo, è un popolo che è riuscito a mantenere una identità ben definita e ben percepibile dall'esterno. Potremmo dire che quindi è riuscito sempre a ricostituire questa identità. Le chiedo, come ha fatto? Esiste un percorso di ricostruzione identitaria a partire da tragedie come quelle vissute dal popolo ebraico non ultima la Shoah, e qui faccio appello veramente alle sue competenze bibliche, al suo grande intuito come interprete biblico, se ritrova nei testi fondanti dell'identità ebraica le indicazioni per un percorso che aiuti a risanare le ferite prodotte da questi grandi traumi storici. Allora parliamo del primo grande broc, che è stato l'esilio in Mitzraim. Un esilio inizialmente glorioso. Si arrivava in Egitto. Ecco maestro, mi scusi, ricordo solo che Mitzraim è il termine ebraico per indicare la parola Egitto. Anche se so che lei ha un po' di perplessità nel tradurre Mitzraim con Egitto, però oggi accogliamo questa identificazione. Mitzraim è l'Egitto. D'accordo, d'accordo. Dunque, l'esilio d'Egitto. Allora mi sono chiesto innanzitutto come procede il pensiero di Israele insieme alla tradizione di Israele per narrare questo primo grande esilio e farne un paradigma, perché la costruzione del paradigma è consapevole, volontaria, cioè deve servire per i futuri esili, perché nella tradizione di Israele sono contemplati i futuri esili per un motivo, è che ogni esilio viene motivato. Non vi è un esilio che non sia motivato. Allora, com'è motivato questo primo esilio? Ed è interessante, perché va a motivarsi nella letteratura, letteralmente, nel giardino di Eden e nel famoso contravenire all'indicazione del creatore di questo albero non mangerai l'albero del bene e male. E allora cosa succede? C'è un dinosauro, chiamiamolo così, perché è un serpente con le zampe, quindi non può che essere un dinosauro, a mio parere, che convince l'uomo invece a mangiare di quell'albero. E questo dinosauro incarna il lato tenebra della creazione, perché, dicono i maestri della Kabbalah, al momento della creazione, ci fu ripetutamente la creazione positiva e la sua ombra negativa. Lo chiama in ebraico zu leumat zu, questo di fronte a questo. E questo è uno dei primi grandi principi kabbalisti, mistici, della tradizione ebraica, cioè tu crei e poi c'è contemporaneamente la creazione da sé, dalla zona d'ombra. E allora è interessante come si esprimono i maestri della Kabbalah, dicono sì, era il dinosauro che ha convinto per prima a mangiare di questo albero, però la tradizione kabbalista dice che era cavalcato questo dinosauro, aveva qualcuno che è la sitra akhara, il lato oscuro che cavalcava il dinosauro. Quindi di per sé i serpenti o i dinosauri non sono né cattivi né male, sono cavalcati e questo è importante a questo punto per capire l'idea d'esilio. Il dinosauro, il serpente come volete, si è impadronito di Chavà, ha penetrato, ma ci metto le virgolette perché si tratta di un penetrare spirituale e psicologico, Chavà e ci ha penetrato a noi, è diventato una parte dell'essere umano, quell'atto negativo. L'esilio d'Egitto, dicono questi maestri mistici, veniva ad espiare la lordura del serpente. Espiare significa prendere coscienza del fatto che non siamo più né così ingenui né così puri e che bisognerà prenderne coscienza ed è soltanto nell'esilio che si può prendere coscienza dalla propria identità, dalla propria persona, sia a livello individuale che collettivo. Il popolo di Israele si forma in esilio all'inizio e non solo questo, a un certo punto quando escono via questo primo esilio d'Egitto e che si trovano davanti a questo famoso mare dentro il quale passeranno e che dovrà aprirsi davanti a loro, tra l'altro non era un mare, era una specie di lago, storicamente parlando, quando questa acqua ha dovuto aprirsi il lato negativo ha detto ah ma perché? Perché mai dovrebbe aprirsi davanti a questo popolo di Israele? Sono idolatri quanto sono idolatri quelli che li stanno inseguendo gli egizi. quindi noi dobbiamo capire addirittura che un'identità è così profonda che si struttura e si forma al di là di quelle che sono diventate le religioni. È un'altra storia, è una storia identitaria. Il mare si è poi aperto per un motivo che non contava il fatto di essere idolatra o meno. Era qualcosa di diverso. Era sempre quella sitra ah quel lato della tenebra. L'Egitto rappresentava il lato della tenebra. Quindi abbiamo così tanto da imparare ed è nuovo anche per gli ebrei. Gli ebrei non sono ebrei perché sono di religione ebraica ma perché percorrano funzionano secondo una struttura identitaria che si rivela man mano che progredisce che si sviluppa attraverso la tradizione il pensiero e noi stiamo parlando di millenni di pensiero e di tradizione. grazie maestro come sempre veramente stimolanti queste sue interpretazioni e mentre parlava mi veniva in mente che ebreo in ebraico si dice ivri che viene dal verbo la avor che significa letteralmente oltrepassare allora questa esperienza dell'oltrepassamento dell'attraversamento intesa come accettazione del cambiamento qui mi sembra essere un po' la risposta alla domanda che le chiedevo sul come si supera un trauma ecco questa accettazione del cambiamento e fiducia nella possibilità di un cambiamento e di un oltrepassamento della condizione presente mi sembra che anche etimologicamente appartenga all'identità ebraica l'ivri l'ebreo è proprio colui che attraversa e allora anche l'immagine dell'oltrepassamento dell'attraversamento degli amsuf cioè diciamo del mar rosso beh mi sembra effettivamente che indichi il modo in cui una coscienza ebraica affronta traumi enormi come quelli che ha dovuto attraversare nel corso della propria storia si è ebrei così si potrebbe dire se si è disposti al cambiamento e qui vengono anche in mente tutti i paralleli con l'altra parte del suo lavoro che è appunto il lavoro psicanalitico ed è qui anche qui facendo appello alle sue competenze psicanalitiche che vorrei interrogarla su un'ultima questione affrontare con lei un ultimo punto lei ha accennato all'inizio della nostra conversazione anche il suo rapporto si potrebbe dire con questa forma di memoria che lei definisce memoria celebrativa e che è anche un po' la memoria attorno a cui si è costruito questo rito collettivo che è la giornata del 27 gennaio sono però diciamo forme di memoria che svolgono certamente una funzione pubblica anche noi qui siamo a parlare di questi temi in occasione di questa data però certamente rischiano di come tutti i riti un po' di essere svolti in maniera meccanica e quindi di annullare direi lo spazio del pensiero e della riflessione oltre il fatto che non è da molto che è istituita la giornata della memoria però già possiamo dire che soprattutto nelle nuove generazioni nelle scuole insomma si cominciano già da un po' di tempo alle varie delle voci un po' critiche in cui si dice va bene ma perché sempre questi ebrei dobbiamo ricordare di massacri di genocidi ce ne sono stati tanti nella storia dell'umanità perché dobbiamo ricordare proprio questo personalmente credo che la Shoah abbia una propria specificità non voglio qui entrare adesso nel discorso dell'unicità o meno della Shoah però certamente il ricordo della Shoah è il ricordo di una specificità che non riguarda solo un evento storico ma riguarda la salvaguardia di valori universali cioè quei valori incarnati dalla tradizione biblica che è una tradizione quella ebraico-biblica che ha aperto diciamo questo orizzonte universalistico egualitario riconoscendo una comune origine di tutti gli individui tutti nasciamo da Adamo ed Eva al di là di distinzioni etniche razziali o di colore l'attacco al popolo ebraico da parte dei nazisti è un attacco anche a questa visione universalistica egualitaria di qui secondo me la specificità del ricordo della Shoah siccome l'abbiamo già detto siamo tutti preoccupati di come si conserverà questo ricordo una volta che i reduci diretti dei campi di sterminio non ci saranno più non potremo più avere le loro testimonianze che suscitano anche così tante emozioni in chi le ascolta le chiedo come la tradizione ebraica conserva la memoria noi ricordiamo ogni anno l'uscita dall'Egitto di cui ha parlato da migliaia di anni siamo riusciti a conservare quel ricordo si potrebbe dire quella memoria attiva come secondo lei la tradizione ebraica può venirci in aiuto in questo tentativo di conservazione per le prossime generazioni del ricordo della Shoah allora mi rialaccio a quello che hai detto tu il cambiamento cambiare i vri cioè oltrepassare come dicevi è estremamente importante allora dell'Egitto cosa ricordiamo dell'esilio egizio parlo dell'esilio ricordiamo praticamente la schiavitù e una cosa una sola violenza immane che è quella di praticamente uccidere tutti i bambini ebrei annegandoli nel Nilo che cosa significa questo 3000 e passa anni dopo questo avvenimento ebbene significherebbe il tentativo dell'Egitto di una delle due più grande civiltà del suo tempo di annegare la civiltà di questo popolo nascente di annegare la cultura di questo popolo nascente nel suo Nilo il Nilo è la centralità di quello che è l'Egitto ed è lì che venivano annegati dunque parliamo del cambiamento a questo punto ebbene il cambiamento per me personalmente è o arriva o sarà gravissimo e secondo me è estremamente specifico particolare noi abbiamo un'idea storica e romantica devo dire storico-romantica di un popolo che è paragonato al greggio che va al matatoio senza protestare dietro di me non a caso c'è un quadro con un greggio ed è questo che intendevo è un quadro di un mio allievo Maurizio Meschia e dicevo non è vero è un falso storico assunto credendo così di rendere il broc il disastro Shoah per sempre il popolo vittima che va entra nei forni crematori nei camera da gas e nei forni crematori è un falso è un falso psicologico è un falso storico è un falso anche letterario non è vero in tutti i campi di sterminio ci sono state rivolte in tutti senza eccezione nel ghetto di Varsavia la rivolta è iniziata dai storici che scrivevano ma non scrivevano soltanto del disastro della Polonia ma di quello che succedeva in Unione Sovietica di quello che succedeva laddove i nazisti passavano e questi testi esistono io ne ho due tre versioni ed è importantissimo mi chiedevi cos'è che trasmetteremo a questo punto io vorrei sostituire il giorno della Shoah niente meno il giorno della memoria vorrei sostituirli con il giorno della resistenza la Shoah per me è la resistenza di un popolo ed è una resistenza paradigmatica simbolica quanto tempo è stato necessario perché nasca la resistenza in Francia in Polonia via discorrendo in condizione molto migliore della resistenza nei ghetto e nei campi di sterminio per cui se mi chiedono qual è l'insegnamento da trasmettere rispondo con molta tranquillità sapendo che divento politicamente infrequentabile è Israele è Israele la resistenza è entrato nelle nei tombini di Varsavia ed è uscita nel 1948 il giorno della dichiarazione dell'indipendenza dello Stato di Israele a Tel Aviv è questo che è importante capire non andremo da nessuna parte con queste commemorazioni secondo me il giorno di Pesach quello che viene chiamato la Pasqua e non riesco a capire perché il giorno di Pesach non si ricorda quello che succedeva in Egitto si ricorda principalmente questo che noi siamo usciti dall'Egitto un po' per la resistenza ma tanto per un progetto divino ed è questo che dobbiamo capire questo che diciamo ammettiamo quasi storicamente di essere uscito dalla schiavitù più nera dal tentativo di anichilamento più terribile di un popolo siamo usciti fortunatamente ecco grazie maestro Bacarier grazie anche per questo suo ultimo riferimento allo stato di Israele moderno come segno di resistenza di un'identità che è riuscita a trovare riscatto nel ricostruirsi e che lo si voglia negare o meno un'identità si ricostruisce solo se ha un territorio per poterlo fare e non se vive minoranza ospite in un altro territorio quindi un Israele moderno legato all'esperienza della Shoah in quanto segno di resistenza e del ricostruirsi dell'identità da parte di un popolo grazie grazie davvero maestro Bacarier per queste sue riflessioni sempre così intense e così originali come dicevo in apertura sappiamo che abbiamo chiesto un ulteriore sforzo credo però sia importante anche far emergere queste testimonianze di seconda generazione come abbiamo detto durante il corso della nostra discussione grazie a te Davide grazie molto dunque salutiamo chi ci ascolta e a risentirci noi in una prossima occasione shalom grazie a tutti